se non lo stai a mano, se ti lascia bacca e poi se ti metti al punto guardiamo la nata come si vede il piano terra della villa con le lastre proprio di pavimento e quindi si vedono proprio gli strati e quello è il terreno che c'è qua perché è il letto del fiume e quindi è proprio così la droga we are very near by the river there is a river